13 firme a sostegno di Massimo Toscani, 6 sottoscrizioni in appoggio a Giuseppino Molinari. Ormai si gioca a carte scoperte la partita per la presidenza della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il cui Consiglio Generale si riunirà il 26 settembre per eleggere il successore del dimissionario Francesco Scaravaggi. A favore del notaio Toscani, presidente del Collegio Notarile di Piacenza, si sono espressi consiglieri di Via Sant'Eufemia Claudio Bassanetti, rappresentanza dei sindaci della provincia, Roberto Datturi e Carlo Ghisoni per la provincia di Piacenza, Adriano Dotti, Lucia Favari e Annalisa Fiorani per il volontariato, Pietro Galizzi per l'Università Cattolica, Sergio Giglio, Pierluigi Scrocchi, Alessandra Tampellini della Camera di Commercio, Milena Tibaldi Montez del comune di Piacenza, Renato Zurla dei sindaci della provincia e Giorgio Milani consigliere cooptato. A favore di Molinari, presidente della Galleria Ricci Oddi, si sono espressi invece Gilda Boiardi per i comuni della provincia, Mario Tondini della diocesi di Piacenza e Bobbio, Fabrizio Garilli in rappresentanza del conservatorio Nicolini, Giovanni Rabaiotti del comune di Piacenza, Claudio Lisetti del volontariato e Pierluigi Segalini del Politecnico. Non hanno preso posizione i cinque consiglieri vigevanesi, i quali hanno peraltro dichiarato di voler lasciare la precedenza e la scelta del candidato alla comunità piacentina, al contrario di quanto fatto nel marzo scorso, quando per l'elezione di Francesco Scaravaggi propri vigevanesi furono determinanti.